oh a rieccoci qua dopo un po di tempo che siamo mancati per motivi diciamo quindi ingentali che vabbè e per questo quiet place 2 la vendetta la vendemmia che noi avevamo visto l'uno e avevamo anche fatto la recensione mi pare c'era anche piaciuta ma forse adesso forse la trovo pure da qualche parte ma rimettiamo un piccolo estratto della recensione dell'uno eccolo qui a quiet place è un film horror pure drammatico un po drammatico sì praticamente ci sono questi alieni che sono ciechi ma ci sentono benissimo c'è un'orecchia grossa così bene fatta l'estratto estratto il dato è stato estratto è stato stato il numero e numero 2 di questo quiet place 2 molto figo questo fanta horror thriller fantascientifico questi mostri alieni angoscianti che devi fare piatti fare se non devi fare rumore se fai rumore questi arrivano dovunque tu sia stai in bagno stai in bagno devi fare tutto piano fa fare anche una scuregetta perché altrimenti arriva il mostro e ti ammazza e ti ammazza però diciamo molto 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 bene molto d'azione molto movimentato molto figo quindi se vi piacciono i film così un po di fantascienza un po di diciamo di horror vedetevelo perché ve lo consigliamo proprio se avete visto l'uno e assolutamente da vedere il due e chissà se ci sarà prima o poi anche il tre hai capito ma che basta così così e invece no forse il tre potrebbe anche esserci perché infatti non finisce proprio finisce ma non finisce ma non finisce esatto quindi questo quiet place dos da vedere consigliato per gli amanti del genere thriller horror antani e quindi niente noi ci mangiamo andare un sushi e al prossimo film arrivederci dai soliti due scemi che siamo noi ciao